Ho conosciuto le ACLI tramite la rassegna Molte fedi sotto lo stesso cielo. Inizialmente partecipavo soltanto alle rassegne, ma sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla cultura che si respirava durante quegli incontri e ho scelto di diventare volontaria. Quando ho scoperto della rivista Babel ho deciso di iniziare a scrivere. Babel è un progetto che cerca di raccontare Bergamo in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue sfaccettature multiculturali. Quindi non solo la Bergamo dei bergamaschi, ma la Bergamo di tutti i bergamaschi acquisiti che vengono da fuori. Il valore aggiunto di Molte fedi è sicuramente che è un incubatore di diverse culture e infatti la diversità viene intesa come ricchezza. Sono Noa, ho 25 anni e studio all'Università di Bergamo dove abito da qualche anno. Sono Chiara, ho 21 anni e sono volontaria per Molte fedi sotto lo stesso cielo. Grazie a tutti.